Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua con due squadre a 250.000 crediti, mi raccomando iscrivetevi al canale che io vedo che più del 60% di voi guardano i video senza iscrivervi, quindi vi invito a iscrivervi e attivare la notifica che è il modo migliore per supportare il mio lavoro e se vi piacciono questi video e in più votate nei commenti il prossimo budget di questo format. Mi raccomando lasciate like e commentate appunto scrivendomi cosa ne pensate e volevo anche dirvi che su OneFootball ragazzi è uscito il primo articolo con me dove vi parlo sul come iniziare FIFA 21, è uno speciale extra oltre a quello del video quindi ci sono tantissime informazioni, io vi invito ragazzi a scaricare l'app trovate il link sia in descrizione che nei commenti e insomma incominceranno quindi tutta questa serie di articoli legati a FIFA 21, questo è il primo di una lunga serie. Prima squadra, partiamo dal portiere che è Norberto Neto, ho scoperto solamente ora che si chiama Norberto vabbè, comunque alto un metro e novanta quindi un portiere molto alto, riflessi 80, 84 di tuffo piazzamente presa, i rinvio sono comunque nella norma, niente di incredibile però insomma una squadra a 250 mila crediti ha veramente poco senso investire su un portiere quando si tratta poi magari dei campionati dove il portiere viene a costare un po' più di quanto ci possiamo permettere però temporaneamente lui tranquillamente dice la sua, un buon portiere alto, statistiche equilibrate, niente di incredibile ma i portieri tanto quest'anno lo sapete non parano un cazzo poi abbiamo Jesus Navas, 4 di massabilità ottimo, 2 piedevole non tanto, alto normale quindi non work at proprio ideale per un terzino sicuramente state attenti a mettere di resta del turno in attacco velocista in dubbio, 90 accelerazioni 84 di scatto, non è più veloce come una volta ma rimane comunque veloce, un buon posizionamento offensivo sicuramente non più un tiratore, una volta ricordiamo che era un esterno abbastanza alto e comunque era anche molto valido su FIFA un po' di anni fa ed era anche un 4-4, poi a quanto pare ha verso un piede passaggi 83 di corsa, 81 in passaggio corto, 75 di lungo, 82 effetto, 80 visione come passaggi meno male scudendo la punizione non è male, assolutamente ci sta tranquillamente poi come dribbling pure, molto buono, tutto dall'81 in su le statistiche peggiori sono agilità e freddezza però rimane comunque un buon dribblatore a livello difensivo non è niente di incredibile ma è abbastanza equilibrato comunque le statistiche più importanti sono l'intercettazione 83 e l'81 lettura difensiva contrasto i piedi sicuramente da rivedere e scivolata decente poi è super resistente ed è penso il giocatore più scarso fisicamente che io abbia mai visto tant'è che credo che non ci sia modo di migliorare questa statistica cioè neanche con sentinella quindi gli mettere una bella ombretta per insomma migliorargli un bel po' la difesa e la velocità in modo da sopperire alla mancanza fisica di questo giocatore però insomma sia veloce e preciso non è un problema poi abbiamo Diego Carlos 4 piede debole, 3 di massabilità, normale e alto lui mi piace veramente un casino l'ho provato tante volte e ha un'ottima carta io lo utilizzerei con ombra perché comunque è un giocatore veloce difensivamente preciso ha un buon contrasto una buonissima intercettazione forte fisicamente stacca di testa comunque alto un metro e 85 poi insomma se volete mettere ancora va bene pure se volete migliorare un po' l'elevazione però secondo me va bene con ombra che così gli miglioriamo di brutto difesa e velocità poi abbiamo i Dermi di Tau normale alto un metro e 86 carta equilibrata lui palesemente con ancora perché poi difensivamente è equilibrato ci sta ma fisicamente è anche equilibrato c'è stacca di testa quello che vogliamo però non è super forte fisicamente la velocità non è male quindi insomma ci può stare quindi secondo me non essendo che c'è una caratteristica specifica che possiamo dire figa in quello per migliorare di brutto allora io gli metterò in ancoretta così almeno gli miglioriamo tutte e tre le caratteristiche però insomma rimane una difesa comunque veloce e equilibrata poi abbiamo Alex Teglie salto alto uno dei trezzini che io ho sempre preferito finalmente in un campionato utilizzabile e prima era ebridabile solo perché è brasiliano ma è ebridabile anche perché gioca in un campionato che ci rende comunque facile la gestione della carta è un buon velocista non so per veloce però comunque veloce difensivamente preciso resistente elevazione non fortissimo fisicamente ancora anche a lui gli miglioriamo un po' di velocità un po' di difesa un po' di fisico poi comunque un buon controllo di piedi un buon dribbling un buon piede sa crossare molto molto bene tira forte insomma fa bene comunque in tutte e due le fasi poi abbiamo Richarlison punta non male per iniziare 5 piedebole 4 massabilità alto alto 1,81 è sicuramente veloce ma non un super velocista nei primi passi non è molto forte in termini di accelerazione di raggiungere velocemente la velocità però comunque rimane veloce un buon finalizzatore non incredibile 82 82 potenza tiro 82 posizionamento offensivo non un gran tiratore dalla distanza poi a livello di passaggi niente di che a livello di dribbling equilibrato ma non eccelle fisicamente molto più forte di quello che leggiamo in game comunque è molto difficile da spostare stacca bene di elevazione in realtà il dribbling non è male poi ha dribblatore tecnico che sicuramente lo aiuta e classe generalmente questa carta è una boa è un giocatore che sa fare un po' di tutto ma niente di incredibile niente nel senso che corre comunque si stacca di testa fisicamente difficile da spostare segna sa dribblare non è il più forte però in niente poi abbiamo Allan Allan l'ho detto con l'H ma senza 4 massività 3 di piede debole normale alto e l'hanno baffato sulla velocità scatto più che alto perché poi difensivamente è forte fisicamente è forte è resistente ha un ottimo dribbling sa passare bene il pallone ma l'hanno baffato sulla velocità quindi io andrei a mettergli un'ancoretta o un'ombra insomma per migliorare di brutto la velocità poi abbiamo Fred 4-4 alto-alto lui invece casica carta equilibrata che sa fare bene la fase offensiva è veloce comunque abbastanza di dribbling è veramente ottimo difensivamente è normale non forte fisicamente sicuramente poi il passaggio è buono non è un gran tiratore io gli metterei qualcosa che gli vada a migliorare la velocità il passaggio un motore o qualcosa del genere non so se è una miglioraglia a difesa ci sta anche ancora ci sta ombra in realtà può starci un po' qualunque cosa dipende quanto offensivo lo vogliate e quanto difensivo lo vogliate poi abbiamo Lucas Moura lui ottima carta 4-4 alto-normale super veloce super dribbling come ogni anno tiro passaggio dei fecanti quindi un bel predatore quindi classica carta di ogni anno è Lucas Moura niente più niente meno poi abbiamo Gabo il Jesus 4 massabilità 3 piede debole alto-alto lui è una carta non male secondo me perché comunque velocità c'è tiro un buon finalizzatore ottimo posizionamento quelli sono importantissimi super agile super equilibrio un ottimo dribbling comunque di testa niente di in che resistente magari non super forte fisicamente lui un bel falco gli miglioriamo velocità tiro a forza fisica e secondo me questo vola poi abbiamo Douglas Costa che lui vola nel vero stessa parola 5 massabilità tanta roba quest'anno molto importanti alto-normale super veloce super dribbling la finanziazione fa cagare come ogni anno sa tirare forte ma non c'entra la porta poi sa passare il pallone sa crossare gli mettiamo un predatore ma tanto in fascia secondo me worka benissimo proprio per il fatto che è molto difficile a tenere in velocità così è come la dovete posizionare sia per avere il massimo di intesa e sia come la dovete utilizzare in game il cambio successivo è sicuramente quello di levare in neto e mettere al suo posto un buon partiere Teglias se volete risparmiare potete mettere l'altra versione se la trovate ancora a un buon prezzo e Douglas Costa nel caso in cui questa costa un filo di più basta mettere Felipe e Anderson però insomma questa è un'ottima squadra quindi sicuramente lavorerei sul partiere lavorerei poi in futuro su Richarlison tanto abbastanza easy cambiarlo e onestamente come squadra direi che è molto molto buona per il 4-4-2 in game potete cambiare modulo anche con il 4-2-2-2 quanti due ho messo non lo so però insomma rimane comunque la stessa formazione e secondo me worka benissimo seconda squadra parte da lui Gulaxi un portiere che non ho mai consigliato in vita mia ma è alto 1,91 statisticamente bene messo perché comunque non ha nessuna statistica di quelle fondamentali sotto all'84 quindi per una squadra 250.000 crediti anche in termini di ibridazione e secondo me è ottimo poi abbiamo un Babu come terzino adesso l'altro normale 3-3 un terzino molto vagato perché è molto veloce e poi per il resto vediamo solo che è resistente perché non avrebbe altre caratteristiche particolarmente interessanti a parte magari la forza fisica la scivolata sicuramente va utilizzato con ombra perché per quanto magari non abbia bisogno di velocità ha tanto bisogno di difesa a questo punto gli diamo anche un po' di velocità o sentinella eventualmente se volete spendere meno però insomma terzino bagato è bagato c'è poco da dire poi abbiamo Hernandez l'ho usato anche qualche partita alto alto un difensore veloce difensivamente abbastanza buono resistente non tanto ma con una buona elevazione forte fisicamente reattivo secondo me un cioè neanche tanto forte fisicamente secondo me ancora sarebbe la cosa ideale per lui buona carta niente di incredibile poi abbiamo Upamecazzo lui è un altro bagato perché statisticamente ci dice solo che è molto veloce ma fa fatica raggiungerla difensivamente ha un buon contrasto però poi niente di che forte fisicamente elevazione poi in realtà in campo picchia tutti quindi io gli metterò un ombretta e poi questo qua un bullo cioè veramente non si ferma mai a me piace veramente tantissimo poi ovviamente c'è la versione IF che è tantissima roba però costa un po' troppo poi abbiamo Alex Tellez già analizzato prima abbiamo Goretzka alto ad orbale uno dei miei centrocampisti preferiti quest'anno 3 massabilità 4 piede debole è una carta molto completa non eccelle in tantissime robe ma è molto completa in game comunque aspettatevi un giocatore che fisicamente sia veramente statuario veramente difficile a spostare bravo a spostare gli altri con un buon piede un buon controllo abbastanza veloce difensivamente comunque c'è e non è un grandissimo tiratore io lo giocherei anche lui con ombra e si vola poi abbiamo Emre Can 3 massabilità 4 piede debole normale alto lui ha bisogno di accelerazione difensivamente non ha particolare bisogno neanche fisicamente perché ha ben messo ha un buon piede comunque generalmente escludendo magari l'agilità e l'equilibrio che non lo rendono magari il più agile di tutti però sa passare il pallone sa tirare magari non con tanta precisione e sa dribblare probabilmente anche lui metterà i ombra a sto punto vedendo che comunque gli manca tanta accelerazione gli possiamo dare un po' di lettura difensiva poi abbiamo Martial 4 piede di massabilità 3 piede debole normale normale a me piace un casino quest'anno è molto molto forte perché l'ho trovato estremamente agile super veloce un ottimo tiratore fisicamente non faccia spostare sguscia magari la pecca che non stacca di testa io lo giocherei con Falco e poi abbiamo Gnabry 4-4 gli hanno ammazzato la velocità scatto però comunque ha molta accelerazione un ottimo finanziatore un buon posizionamento una buona potenza tiro agile equilibrio dribbling queste caratteristiche le ha tutte gli manca qualcosa in passaggio io lo giocherei con Cacciatore penso poi abbiamo Coman 4 possibilità trepiedevole lui classica carta un po' stile Lucas veloce dribbling le sue peculiarità però gli manca un tiro e passaggio quindi lo giocherai con Predatore poi abbiamo Royce 4-4 alto normale molte volte nessuno lo considera perché non è il più veloce di tutti ma poi tiro, passaggio e dribbling sono fenomenali nel senso che è molto preciso e molto equilibrato e non pecca in quasi nulla gli manca la velocità sì però lo metti con Cacciatore secondo me worka benissimo questa è la squadra ovviamente in questo caso dovete andarvi a comprare gli oggetti consumabili per applicarli a Marziale Royce in particolare ma anche agli esterni per farle diventare attaccante sista attaccante destro e poi insomma avrete tutti con il massimo di intesa in game con i piani gioco dinamici o cambiando modulo in game questa squadra la giocherai o con il 4-2-2-2 che secondo me è uno dei moduli ideali per questa rosa magari giocando con Marziale Royce davanti con Comani Gnabria alle spalle oppure giocando con il 4-2-3-1 qua in questo caso il 4-2-3-1 dipende un po' da voi nel senso che davanti potreste giocare con magari Marziale Royce alle spalle Comani Gnabria nelle fasce oppure potreste giocare addirittura con Royce davanti Gnabria alle spalle e Marziale e Comani sulle fasce vedete un po' voi come preferite fatemi sapere come vi trovate come le cambiereste come le modifichereste spero ragazzi questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate tanti like iscrivetevi al canale attivate le notifiche e noi ci vediamo nel prossimo video bella a tutti e noi ci vediamo